A seguito delle primarie del PDI, domenica scorsa si è tenuta l'Assemblea Nazionale del Partito a Roma. All'incontro ha partecipato anche Maria Teresa d'Achille, componente della Federazione Provinciale del Partito Democratico di Isernia, la quale ha commentato con noi le parole del neoeletto Renzi. Renzi è intervenuto su tre questioni fondamentali, oltre ad aver fatto un'ampia panoramica sulla questione europea, sulla questione mondiale e su tutto quello che l'Italia rappresenta in questo panorama nazionale e internazionale, con una leadership forte che già si sta caratterizzando. Per quanto riguarda le parole chiave, lui si è soffermato proprio su questo, sul lavoro, sulla casa e sulla parola mamma. Lavoro pensando ai giovani, pensando a quelli che hanno perso il lavoro, gli over 50, alle tante donne che cercano occupazione, perché la parola chiave del PDI è il lavoro. Non è il tempo di sussidi, di assistenzialismi. Il lavoro è per il PDI al centro di tutto il rilancio economico del Paese, con importanti riforme, sburocratizzando, detassando e investendo. Da qui si riparte, anche perché i dati che ci vengono dagli istituti scientifici sono dati incoraggianti, sebbene ancora vogliano evidenziare l'inizio di un percorso che sta crescendo, anche se lentamente. Questo vale anche per il nostro territorio. L'altra parola chiave è la casa, pensando alla casa come luogo di sicurezza, ma anche pensando alla casa, anche ai musei, quindi anche alla cultura. Quindi tutto questo chiaramente riguarda sempre quell'insieme di riforme che si stanno facendo e che devono essere attuate in maniera completa. L'altro aspetto è la parola mamma. La parola mamma è una parola chiave perché si è chiesto alle mamme e alle donne di impegnarsi in politica e abbiamo visto che tante mamme e tante donne impegnate in politica hanno fatto la differenza. È un valore aggiunto, una risorsa enorme che il Partito Democratico e la politica deve valorizzare. Quindi non è possibile che nel 2017 le donne restino fuori della politica e che la maternità venga ancora vissuta come un disagio. Quindi il Partito Democratico mette al centro del suo impegno, delle sue riforme, anche e soprattutto le mamme.